E ci siamo ragazzi, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere un po' di analisi ciclica, analisi tecnica dei mercati cripto, non la facciamo da qualche tempo, qualche giorno, Bitcoin, Ethereum continuano questa fase al ribasso, seguono, continuano a seguire quello che è Nasdaq 100, ragazzi ormai la correlazione è diventata mainstream, ne abbiamo parlato in anteprima qualche mese fa, 4-5 mesi fa della correlazione che stava sbocciando, adesso ne parla tutto il mondo di questa correlazione con i mercati old, vedremo quanto durerà, non è detto che continuerà a durare, ci sono tante cose che potrebbero modificarsi nell'arco dei prossimi giorni, oggi però il video lo facciamo esclusivamente sull'analisi tecnica e ciclica di Ethereum e Bitcoin, andiamo a vedere come sempre anche Nasdaq 100 e la total market card della DeFi per vedere se dal punto di vista di analisi tecnica, tecnica o ciclica c'è qualcosa che non funziona, però volevo dedicarmi proprio insieme a voi in questa giornata nel fare un briefing più approfondito della situazione di analisi su Bitcoin ed Ethereum, proprio per andare a capire che cosa stanno disegnando questi mercati, perché in realtà questa situazione delicatissima non è ancora così pericolosa dal dire ok sarà un disastro, ci sono ancora dei lati positivi che i mercati possono andare a disegnare nei prossimi giorni, ancora c'è una partita da giocare ragazzi, lo vediamo in questo video, andiamo a cercare di essere positivi, quindi questo è un video ottimista senza andare ovviamente a rinnegare il fatto che i mercati sono in trend ribassista da qualche giorno, più o meno una quindicina di giorni per quanto riguarda questa fase dopo aver toccato circa i 45-46 quindi da tutto il mese d'aprile sono stati rossi, l'attesa resta quella di una ripartenza ciclica a breve, dovevamo essere intorno appunto a fine mese di aprile, ci siamo come giorni, vedremo dove si possono possono allungarsi ancora i tempi, probabilmente qualche altro giorno ci può stare, 4-5 giorni circa ragazzi, dopodiché i mercati devono reagire, è ovvio che tutto sarà strettamente collegato alla questione legata a Nasdaq, lo andiamo a vedere comunque in questo video e poi cercheremo di stare sul pezzo anche nei video successivi, non è detta l'ultima parola, secondo me i mercati ancora hanno qualcosa da dire e vedremo un po' quello che succederà nei prossimi giorni va bene ragazzi, allora, che altro vi dovevo dire, vi dovevo dire niente, andiamo a vedere i grafici ok ragazzi eccoci sul grafico, tra l'altro mentre stavo facendo questo video mi sono scattati alcuni segnali proprio long in questo istante allora ho aperto Prime ragazzi, la mia piattaforma, quella che utilizzo diciamo anche quando voglio fare delle operazioni speculative per l'analisi di tutta questa situazione e in effetti vedete a 15 minuti c'è stato anche uno spike di Nasdaq proprio in questo istante, seguito alla perfezione, adesso vi faccio vedere per ridere anche dall'ecrito proprio per confermare la questione legata alla famosissima ormai correlazione veramente istantanea ragazzi allora questi sono grafici a 15 minuti, quello che vedete qui probabilmente insomma è incredibile allora questo qui ragazzi è lo spike su Bitcoin e vi faccio vedere anche quello su Nasdaq che è stato istantaneo in questo momento, guardate, pom pom, sembrano quasi due macchine computerizzate in questo momento può essere anche che sia un po' collegata alla questione, va bene ragazzi comunque a parte tutto stavo cercando di capire dei livelli di ingresso vi ho voluto far vedere proprio in diretta questa correlazione proprio come avviene, in che forma questa è la piattaforma di PrimeXBT ragazzi anche utilissima proprio in queste situazioni proprio per fare trading con Bitcoin sui CFD del mercato classico, quindi Nasdaq per esempio può essere tradato si possono creare strategie proprio composte tra Nasdaq e Bitcoin perché ci sono veramente sia le cripto del mercato gli indici eccetera, sia quelle sia CFD degli indici sia le cripto che sono le top tra l'altro Prime ne ha aggiunto veramente tantissime e ci consente di fare tutte queste operazioni a leve e quant'altro unico problema in Italia ragazzi, se siete in Italia dovete usare una VPN se volete connettervi al vostro conto di Prime perché non funziona in quanto non rispettano alcune regolamentazioni che Consumbo gli ha chiesto e quindi c'è sempre il solito problema, gliel'hanno bannato, gli hanno oscurato il sito quindi tutto il resto del mondo funziona e si vede così insomma ragazzi normalmente però non va in Italia, quindi ho usato una VPN e non lo potete usare vi lascio comunque il link in descrizione di Prime ragazzi tra l'altro vediamo come sta andando allora Nasdaq sta facendo questa fase di ribasso vediamo Bitcoin, vediamo se eseguerà, vedete ancora in ritardo ragazzi allora si potrebbe aprire in realtà uno short su Bitcoin per dire ok se esegue in questo momento Nasdaq e questa correlazione si va a riequilibrare vedete Nasdaq che questo momento sta scendendo col grafico a 15 minuti quindi adesso magari Bitcoin fa uno spike a ribasso e per seguire la correlazione e ci prendiamo qualche punto allora questi giochini che si possono fare su Prime con un trading veramente di pochi minuti quasi scalping ragazzi ovviamente assolutamente non adatto a chi non è iper iper formato quindi come sempre non do così i finanziari andiamo alle analisi va bene va bene andiamo alle analisi allora Bitcoin partiamo direttamente da Bitcoin per l'analisi ciclica del mercato ragazzi allora la questione dei mensili Bitcoin ha sfasato completamente alcuni calcoli ed è difficile in un contesto di oscillazione che praticamente è solo erratica come quello che vediamo in questo momento andare a fare analisi di natura ciclica precisa al dettaglio c'è anche da dire ragazzi che in questo momento andare ad analizzare i mercati non porta poi ad una fase operativa quindi da un certo punto di vista mi analizziamo per andare a cercare l'eventuale ripresa di questa fase con un nuovo trend a rialzo ma fintanto che non arriva non si opera perciò ho fatto i trading come quelli che vi ho fatto vedere prima per esempio vediamo tra l'altro come diciamo si sta appossando diciamo il mercato magari con questi su e giù che seguono proprio Nasdaq quindi o operate in maniera oraria cioè così insomma di trading oppure fate qualche operazione di breve di uno o due giorni niente di più quindi andare a fare poi le analisi in questione a noi ci portano alla compressione del mercato per quello che sarà un movimento futuro non certamente per quello che deve essere un trading costante, continuo a volte non serve perché semplicemente non c'è niente da fare io dico sempre anche in Academy quando dovete andare a fare trading sulla oscillazioni di uno o due punti percentuali ragazzi va bene divertitevi assolutamente però poi a me non piace andare a insistere forzando il mercato quando il mercato non ci dà in effetti poi quello che è un trend di un certo punto quindi adeguato ecco questo è il discorso allora in questo momento l'unico trend adeguato è stato questo al ribasso quindi hanno funzionato solo gli short per dire allora come funziona la questione ciclica ragazzi qui vi ho disegnato delle strutture già modificate che secondo me possono essere rilevanti per quanto riguarda Bitcoin e che Bitcoin può in effetti star seguendo probabilmente questa fase è agli sgoccioli questa fase di ribasso che abbiamo visto qua perché proprio nei giorni scorsi intorno alla 18 di aprile ma anche prima perché in realtà se andiamo a vedere il minimo vero l'ha toccato il 11 di aprile probabilmente il mercato l'11 di aprile ha fatto metà di questo ciclo iniziato qui e qui ha girato al ribasso perché ha breccato proprio nella giornata di ieri questo minimo qui oggi a dire la verità ora sta facendo un recupero però in sostanza ha breccato il ciclo quindi o chiude questa fase o scende fino alla chiusura di questa fase non ha un'altra possibilità perché breccando il minimo ha girato al ribasso tutto questo struttura ciclica quindi continua la fase scendente perciò o questo minimo è sufficiente a chiudere l'intera struttura ciclica che secondo me non basta ma servirà qualche altro giorno oppure vedremo nuovi minimi probabilmente fino alla fine del mese allora questa cosa qui queste strutture sono i cicli che bitcoin ha disegnato un primo ciclo da 31 giorni dopodiché ha iniziato a disegnare cicli divisi quindi ha fatto 18 giorni qui ragazzi poi un altro 18 giorni un altro 17 o di meno dipende dove lo facciamo finire quindi intorno a questa metà e poi probabilmente un'altra fase identica che sta facendo in questo momento quindi se facciamo coincidere non sono preciso su queste cose non perché non voglia ragazzi ma perché sono esercizi di rito cioè non serve andare lì con la lente di ingrandimento a vedere delle cose che non ha nessuna validità in termini operativi cioè non riusciamo poi a utilizzarla per operare va bene intanto vi faccio vedere come BTC sta seguendo vedete la operazione di prima ragazzi lo shortino qua tac tac è chiuso qui proprio perché seguiva l'operatività in vi diverto mi fanno ridere queste cose perché sul canale YouTube non si possono fare perché non possono rivedere però vedete questa fase in ritardo l'ha fatta su BTC adesso sta risalendo quindi quello era un pump and dump chiamato proprio con un'operazione di trading velocissima ragazzi per fare questa cosa qui ovviamente pochi veramente poco 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 si può fare solo a leva con sistemi come Prime insomma eccetera facciamo divertire l'ho voluta farvela vedere perché è capitato proprio in diretta allora non serve essere precisi qui perché non c'è operatività ragazzi non c'è operatività perché non si può anticipare un mercato di questo tipo andando a si si poteva magari fare però con trading veramente veloce quindi questa fase qui ragazzi può essere anche costruita intera e dire ok andiamo a 30 giorni 30 giorni da questo 1 aprile scadono l'1 maggio quindi intorno proprio a questa zona qui in sostanza è come se il mercato avesse fatto un ciclo da 31 fatto così poi questi 18 18 36 che però secondo me sono anche un po' sporchini e poi questa fase in questo modo vi ripeto è completamente inutile andare a dettagliare il singolo giorno perché perché quello che a noi deve interessare in questo momento è semplicemente la fase successiva quindi la ripresa a questo lato qui ripresa che potrebbe avvenire da questa settimana in poi quindi come e bisogna lavorare poi di trading cioè in questo momento ho fatto un minimo nuovo ci sta anche quello di oggi va bene ragazzi poi però come faccio a prendere posizione è in questa cosa in un contesto così complesso o si è bravi ad avere delle strategie per entrare o fate gli holder allora non fate niente semplicemente state lì e attendete perché sempre gli holder ancora possono attendere la situazione è delicatissima ma non è strapericolosa quindi potete magari attendere un po' quello che fa il mercato e poi andare a a prendere le vostre decisioni se il mercato per esempio scende al di sotto dei minimi dello scorso anno allora quello sarebbe veramente molto pericoloso quindi in sostanza da qui in poi in questa fascia di tempo che vediamo disegnato qui il mercato potrebbe disegnare dei nuovi minimi e poi attuare un livello di inversione attenzione a queste due medie che si stanno unendo e ci danno la possibilità di avere dei prezzi interessanti in un'eventuale ripresa poi abbiamo il primo livello importante che sono 43.000 dollari questo 43.000 è qualcosa 43.400 diventa a questo punto uno spartiacque che è già accettabile perché questo spike al rialzo ragazzi ci ha dato questo livello quindi se il mercato inizia e sale e chiude al di sopra già di questa zona di 42.000 che invece ha tenuto per esempio anche nei giorni scorsi dà un primo segnale di inversione di trend a quel punto si può andare a tentare anche un'operazione longa al di sopra di quei livelli che sono sufficienti perché perché un'eventuale ripresa da questo punto dovrebbe spingere anche un po' di più 48 e aspettiamo i famosi 52 56 se il mercato non li fa insomma dobbiamo riaggiornarci perché la questione diventa delicatissima però al momento ragazzi andare a fare un buy the dip su queste situazioni è pericoloso noi ne abbiamo uno in academy è posizionato con una position size veramente bassa rispetto al nostro solito per cui lo abbiamo lasciato cioè l'ho lasciato io magari alcuni in academy hanno anche chiuso ragazzi l'ho lasciato io perché a me piace ragionare e quelle sono operazioni anche che faccio in maniera sistemica per far vedere anche come si ragiona come la parte formativa non solo per fare soldi cioè bisogna anche ragionare imparare a volte delle coste vale molto di più di una singola operazione va bene poi magari andiamo a recuperare ma vi ripeto sono veramente position size molto basse e apposta perché è molto rischiosa la questione però nel momento in cui ci fa un buy the dip di questo tipo dovete iniziare a comprendere quello che stiamo facendo ci sono delle aree sicuramente interessanti 37 è un'area interessante per esempio per un buy the dip di bitcoin ma siamo contro trend quindi con un trend del genere se un'analisi di questo tipo è sbagliata e non riprende bitcoin non riprende perché non chiude nessun ciclo non abbiamo visto magari l'aveva chiuso qui il ciclo e l'ha invertito a ribasso e scende da qui per un altro mese quindi fino a metà maggio e allora ragazzi questo è una cosa che bisogna vedere dopo ecco perché quando facciamo questo tipo di analisi alla fine con un mercato così complesso andare a comprare contro trend dovete sempre usare strategie di trading al di là di quelle che sono le idee e di quello che può fare il mercato se poi il mercato segue la nostra ipotesi allora siete a cavallo perché state giocando a favore con vento in poppa siete con la veva ma se il mercato non vi segue dovete sapere quello che state facendo va bene ok ragazzi è fondamentale altrimenti poi mi dite ah però non ho capito bla 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 allora lo stesso tipo di struttura ce l'ha eth ecco perché oggi ho voluto più di tutti fare il briefing sulla questione di ethereum e di bitcoin la stessa identica struttura perché ragazzi probabilmente eth sta facendo questa struttura nuova di questo nuovo semestrale che dovrebbe essere iniziato secondo me proprio in zona marzo per quanto riguarda ethereum e forse un po' prima per quanto riguarda bitcoin questa struttura lascia delle tracce perché andiamo a vedere intanto questo livello 3.600 per ethereum è fondamentale è vero che il mercato è debole è vero che il mercato non ci dà strada ragazzi però guardate anche quello che lascia cioè qui c'è una ripresa poi un doppio minimo poi c'è una ripresa forte poi un raccordo diciamo ribassista che va a smorzare la ripresa perché siamo andati diciamo a impattare con alcuni livelli di resistenza un'eventuale ripresa con break dei 3.600 porta di un avettilium intorno ai 4.000 cioè in sostanza ai massimi storici quindi di nuovo siamo a cavallo se questa cosa dovesse avvenire non proprio i massimi storici che sono un po' lontanucci però vicino ai massimi storici va bene quindi questa zona 3.600 a questo punto diventa uno spartiacco vi faccio vedere anche i cicli interni di Ethereum come sono più puliti ma anche rispettano di più questa strada dei cicli a 50 giorni che sono più o meno due mesi scarsi insomma ragazzi quindi in teoria intorno all'1-2 maggio in questa zona io direi che puoi stare precisi al dettaglio da questa settimana in poi per me ogni minimo è buono per un'eventuale ripresa quindi non anticipo però il mercato lo guardo in maniera molto precisa vi avevo detto settimana scorsa che prima del 21 non avremmo avuto modo poi c'è stata la Pasqua c'è stata il superponte di questo weekend ovviamente sappiamo che i mercati nel weekend lavorano male soprattutto negli ultimi mesi quindi da qui in poi sembra che il mercato stia disegnando voglia disegnare un eventuale minimo importante di questa fase di questo periodo allora da qui in poi potremmo avere una fase in questa zona se fa un minimo di ripresa anche qui su ETH ci sono dei livelli chiave per esempio questa zona è la prima è un livello chiave quindi il superamento di quella zona di questa zona qui confermato incluso intorno ai 3002 già indica che è iniziata una nuova fase ciclica e il mercato sarà poi proiettato a superare questi 3,6 queste cose sono tutte tradabili ragazzi lo so non sono grandi trend non siamo abituati diciamo ad avere questi trend però sono tutti tradabili questo tipo di percorso potrebbe essere assolutamente gestibile o fattibile per Ethereum in particolar modo voglio vedere la fine di questa M gigantesca e poi andare a capire che cosa disegnerà il mercato probabilmente qui chiude un ciclo maggiore perché una M di questo tipo chiuderà un ciclo che è quello di inizio del nuovo semestrale dopodiché dovrà indicarci la strada se va in una direzione anzi ve lo anticipo anche in questo video se va in una direzione cioè quella della rimbalzo e poi debolezza allora abbiamo uno scenario già preimpostato preimpacchettato se non fa così ragazzi allunga i termini fino a febbraio gennaio 2023 ho già uno scenario pronto impacchettato l'ho anticipato ieri in academy con un grafico e nei prossimi mesi settimane lo andremo a spulciare anche qui ovviamente perché non ve lo dico ora perché non ha senso perché non sappiamo neanche se rimbalzo che andiamo a ragionare da qui nei prossimi sei mesi poi ci dimentichiamo poi arrivano i nuovi iscritti non ha nessun senso andiamo a vedere quello che invece è Nasdaq che cosa sta facendo in questo momento e poi andiamo a tirare un po' la situazione allora Nasdaq ragazzi da un punto di vista di close sul settimanale e ai minimi di questa fase quindi di nuovo la questione si sposta al concetto se questa fase ribassista è ancora da continuare e allora qui non ha chiuso il ciclo annuale allora si sposta tutto quanto perché anche Nasdaq come Bitcoin ha i cicli ragazzi vi faccio capire un po' la questione allora qui abbiamo un ciclo annuale invisibile per via del fatto che le banche centrali hanno stradopato il mercato quindi non abbiamo nessuna possibilità di vedere un ciclo annuale vero se diciamo lo facciamo cadere intorno ai 350 di solito li fa un po' più lunghi però dove era qui insomma all'interno non c'è proprio il ciclo quindi non si vede ragazzi perché qui è tutto stato stradopato dalla banca centrale quindi se anche dovessimo aggiungere due cicli insieme arriveremmo intorno più o meno agli 800 giorni questi 800 giorni scadono vedete da giugno in poi quindi è questa la questione di Nasdaq quindi se qui siamo in una fase a ribasso e non chiude questo ciclo scende ragazzi quello è il problema di fondo scende ancora fino alla chiusura di tutta questa fase è vero che potrebbe fare come ha fatto in questo momento una eventuale questa figurazione ragazzi è una cosiddetta lingua di Bayer è una figura solitamente anticipatoria di un movimento al rialzo quindi questo tipo di figura mi ha un po' impressionato perché mi ha lasciato un po' perplesso e anche per questo che vi ho indicato su Bitcoin e su Ethereum la possibilità magari che nei prossimi giorni si vada a chiudere un ciclo maggiore per un eventuale rimbalzo che poi andremo a vedere se ha la forza di fare qualche cosa di importante o meno e serve molto serve molto perché da questi prezzi scendere ancora diventa complicato poi gestire la questione per tutto l'anno 2022 però questa questione proprio di Nasdaq è tutto insomma questa diciamo figurazione solitamente prelude a una fase di recupero questo è quello che vi sto dicendo ragazzi perché è il classico boom da molla che fa questo tipo di ragionamento ora non anticipiamo perché non ha nessun senso il trend è ribassista quindi non bisogna anticipare il trend al ribasso questa cosa potrebbe continuare a fare così e essere invalidata però un occhio di riguardo gliela diamo perché i mercati sono scesi Nasdaq è sceso tantissimo abbiamo visto il capitombolo anche di Netflix e tante altre altre stocks è vero che siamo solo a un meno 21 dai massimi e di solito almeno un meno 30 ce lo spara ragazzi quindi teoricamente potremmo scendere ancora però io un occhio io lo butto poi ovviamente non anticipo non faccio nessun long non entro in posizione long se il mercato non mi dà un segnale di inversione ma sicuramente un'allerta me l'ha messa perché questa figurazione solitamente come il tappo della penna non prelude a questo tipo di scatto è un atteggiamento che i mercati possono avere ma non è un atteggiamento tale per cui mi fa dire ok entro proprio ad occhi chiusi no ragazzi perché a livello tempistico l'analisi ciclica non sposa questa view e quello è il mio problema principale quindi da un punto di vista tecnico sembrerebbe una boom boom fatto così ma da un punto di vista di tempo questa fase mi dice attento perché se il mercato è qui 728 anche se chiudiamo qui 770 sono un po' cortini per una fase di rialzo di queste proporzioni solitamente il mercato quando fa i cicli rialzisti allunga i tempi in maniera importante quindi mi aspetto di più una fase che vada a concludersi più o meno intorno a giugno settembre ve l'ho già detto questo ormai lo sappiamo perciò questa fase di chiusura qui non la vedo proprio così coincidente con la fase ciclica quindi da un punto di vista tecnico ci dice potrebbe rimbalzare però da un punto di vista ciclico mi dice aspetta prima che rimbalza prima di prendere posizione perché in realtà a livello tempistico ci sta ancora un po' di tempo e quindi non sono proprio con una probabilità a mio vantaggio ecco perché in questo momento sono veramente sul chi va là ragazzi ho gli alert puntati ho le posizioni da fare entrare ma sono molto liquido rispetto al solito proprio perché non c'è granché da fare da un punto di vista proprio anche di posizione per un mesetto magari due eccetera andiamo a vedere la total market card della DeFi rientro al di sotto delle due medie che in questo contesto fungono in sostanza da nulla di nulla perché quando i mercati sono in barra di congestione le medie mobili non servono a nulla le possiamo assolutamente togliere in quanto sono fanno i cosiddetti fake break su e giù in pratica indicano che il mercato è in congestione quindi una media non si può mettere diciamo piatta e quindi in questo momento gira quindi un'inefficienza dell'indicatore non sono utili in questo caso a dare delle indicazioni molto più utili più utile la fase del ciclica perché qui ha avuto questa fase di basso vedete qui anche questo tipo di grafico ci porta in sostanza a rivedere un po' questo tipo di view quindi ancora una volta ci dà la stessa identica struttura del nasdaq pericolosa questa fase anche per questo vi ho fatto l'ultimo video della mia lezione su del corso come fare trading sulle cripto ragazzi dove avete dei tips su come andare short per esempio coprirvi fare edge delle vostre posizioni perché se avete tante criptovalute soprattutto più piccole la fase attuale è molto rischiosa quindi fate attenzione riducete l'esposizione proprio perché anche in questo grafico ragazzi si vede questo è un lower lower eye cioè è un eye più basso del precedente e qui siamo su un grafico a time frame settimanale ragazzi non daily quindi questa inversione è significativa per un orizzonte temporale di qualche mese almeno 3 4 non poco qui abbiamo un lower low più basso quindi qui abbiamo un'inversione seppur non importantissima di trend di medio lungo periodo se dovesse andare questa fase di basso sotto i 106 billion confermati la struttura va a concludersi con un trend al ribasso che durerà fino alla fine del ciclo annuale della total market cap della defy ciclo annuale che però è ancora positivo perché il minimo è 63 billion quindi molto in basso perciò potremmo avere anche una fase ribassista importante che però non invalida un ciclo annuale al rialzo indicandoci che comunque questo settore ha dei fondamentali stratosferici ma questo non significa che in questa fase non posso subire un meno 40 meno 50 per cento questo è la questione quindi fateci pace non andate a inventarvi storie storielle che non sono visibili nei grafici andremo poi a vedere che cosa capiterà queste questi cinque giorni secondo me sono uno snodo interessante da andare a vedere vi ho detto quello che farò è un video molto impattante questo ragazzi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate soprattutto avete esposizioni sulle cripto più piccole quelle volatili quelle che rischiano in una fase di diciamo colabrodo nel momento in cui dovessero crollare gli ultimi supporti che abbiamo visto anche su BTC dove vanno quelle cripto lì ragazzi va bene allora questa è total market cap della DeFi resta comunque tutta dipendente da grandi criptovalute che sono altamente capitalizzate quindi luna ragazzi AVAX BNB ci sono cripto capitalizzate lì quindi quelle forti le più piccole dove vanno non vi esponete al rischio incontro trend va bene ragazzi attendete la pazienza e la virtù dei trader va bene ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video ciao